Ben ritrovati da Sara Galdi con il Tg 60 secondi di Battipaia 1929.it Battipaia, problemi di connessione internet sul territorio cittadino, disagi soprattutto a Sant'Anna e nel centro urbano, protestano gli utenti. San Gregorio Magno, fatture false, sequestrati beni per il valore di 700.000 euro dagli uomini della Guardia di Finanza di Battipaia, agli ordini del tenente Agostino Fasulo. Salerno, donna positiva al coronavirus, ingerisce farmaci sbagliati ed entra in stato confusionale. Ci è voluto l'intervento dei carabinieri e dei vigili del fuoco per convincerla a sottoporsi alle cure del caso. Castel Civita, festa abusiva in un agriturismo del posto, in dieci finiscono nei guai, ad incastrare partecipanti e proprietario un video postato sui social. Regione Campania, mercati, il presidente Vincenzo De Luca consente le attività di vendita alimentari, ai comuni l'obbligo di attuare i dovuti piani di sicurezza. Finisce con quest'ultimo lancio l'informazione quotidiana del Tg 60 secondi di Battipaia 1929.it Finisce con quest'ultimo lancio l'informazione quotidiana del Tg 60 secondi di Battipaia 1929.it